ola pagai eccoci quest'oggi sono qua a registrarvi un evento speciale che ha organizzato il clan dei devastatori tempo fa avevo già fatto un qualcosa di simile avevo registrato per esempio un paio di piogge di stelle organizzate da il clan di amica italy per fare per festeggiare il loro passaggio di livello invece quest'oggi sono qua quei devastatori che hanno organizzato un evento particolare ovvero uomini contro donne così per divertirsi un po all'interno del loro clan e fare qualcosa di simpatico e divertente se vi piacciono questi generi di iniziative spero che lascerete un bel like vi iscriverete al canale e soprattutto guarderete in descrizione che ci sono tutti i miei social che servono per stare informati quando ci sono prossimi live e video direi adesso di andare a passare anche alla registrazione del video in sé per cui cambio di schermata allora come vi ho annunciato come vi ho detto nell'introduzione il clan che ha organizzato l'evento è questo dei devastatori e vedete anche qua in descrizione che c'è scritto start venerdì 20 ore 21 questo è l'evento devasta boys contro devasta girl e qua c'è una bella war in atto attualmente le ragazze sono a 46 mentre i ragazzi sono a zero perché questo perché tra qualche minuto per me tra voi per pochi secondi loro organizzeranno una specie di pioggia di stelle contro di loro per fare qualcosa di simpatico visto perché va bene c'è la volontà di vincere di dimostrare che sono più forti i ragazzi delle ragazze e viceversa però loro vogliono fare un qualcosa di particolare e vogliono attaccare alle ore 20 tutti tutti insieme in contemporanea e vedere di fare quello che devono fare quindi io registrerò quel frangente lì e poi vi farò anche un riassunto degli attacchi migliori quindi direi che ci vediamo tra qualche secondo visto che vi ho spiegato più o meno come funziona il tutto quando scatta lambaradan ok a tra poco ok sta per scattare il finimondo e noi siamo qua pronti in attesa di vedere gli attacchi dei ragazzi loro sono scatenati in chat faranno il conto alla rovescia noi stiamo qua senza aprire perché non voglio vedere eventuali cavolate da parte loro e aspettiamo aspettiamo diamo un po i partecipanti qua chi sono giusto per farvi vedere un po rapidamente che magari conoscete qualcuno che bruno pupo no swan carmelo wars crow devastatore non ve li sto a leggerli tutti perché sennò perderei solo del tempo e farei anche figure pessime leggendo i nickname in maniera sbagliata e dall'altra parte per le ragazze sono queste qui partiti partiti ufficialmente partiti eccoli qua tutti con gli attacchi sono partiti ufficialmente guardiamo un po carmelo che ci combina carmelo carmelo che attacca coi domatori e coi minatori di hybrid torniamo sulla schermata degli attacchi diamo vediamo tutti 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 ognuno si è scelto un bersaglio solo solo timi si era scampata no anche lei adesso ha trovato il suo il suo attaccante diamo anche demo swan che ci combina demo swan demo swan attacca di zap giganti e streghe oh interessante interessante io ve li faccio vedere rapidissimamente così perché prima il mio obiettivo è guardare un po le stelle che avanzano e l'attacco come va fare un po partecipare un po tutti dopo andremo nel dettaglio a vedere gli attacchi migliori ovviamente sia da una parte che dall'altra anche perché se sono anche nei ragazzi faccio comunque vedere anche gli attacchi migliori delle ragazze tutti sono stati attaccati sono già a 23 stelle 25 aumentano aumentano sempre di più le stelle per gli uomini quando manca ormai un'ora alla fine della war e vediamo vediamo quanto quale sarà il risultato di questo attacco sarebbe stata trissata gusti da ulc qua sono già due stelle su dragon smiri un'altra sarebbe anche lei ha raggiunto due stelle due stelle anche su sarebbe qua anche ovviamente c'è qualche doppio account non è che sono tutti account singoli però aline è stata trissata usti tanto i ragazzi sono arrivati a 41 41 42 le stelle continuano a salire torgert è stata trissata anche sacri la strega carmela ha fatto triss quello che avevo fatto vedere il pezzettino micro ha raggiunto il triss 44 siamo a 44 ormai stanno conclusendosi tutti gli attacchi qua c'è stato anche un micro fail dexter ha trissato anche lui 45 c'è ancora in ballo l'attacco di willy wonka willy wonka vediamolo per la parte finale giusto lui vediamo cosa combina se arriva il triss con il suo attacco sta attaccando di streghe con la regina ancora attiva pochi secondi alla fine dell'attacco non lo so questo non lo so se la regina riuscirà a combinare qualcosa lei da sola probabilmente si fa distrarre è rimasta con pochissima salute anche il tempo non è dalle sue parti dalla sua parte niente 94 per cento niente da fare quindi in questa tornata di attacco tutto simultaneo con 20 attacchi tutti simultanei fatto 45 vediamo a fine war come sarà il risultato e ovviamente come vi ho già pronunciato vi farò vedere gli attacchi sia da una parte che dall'altra quelli migliori rieccoci signori come sarà finita la war tra i ragazzi e le ragazze dei devastatori lasciate un commentino fate la vostra scommessa la vostra puntata io lo scoprirò adesso in questo istante insieme a voi è passato qualche ora da quando abbiamo fatto la registrazione della della pioggia di stelle diciamo così e andiamo a vedere allora mi raccomando se non siete ancora iscritti iscrivetevi subito guerra è terminata o hanno vinto i ragazzi 53 a 46 visualizza mappa ecco qua è stato trissato medieval wars william electro smile peccatore e di qua hanno trissato evidentemente molto di più molto di più andiamo anche a cercare qualche attacchino bellino da farvi vedere allora io partirei in rassegna da fare vedere l'attacco di the girl che ha utilizzato questa tecnica qua con 12 super giganti 15 streghe 8 zappe 4 terremoti ha fatto fuori questa zona qua con lo scagliapietre lo scatter vedete che ha utilizzato le zap e le terremoto e stessa cosa ha fatto di qua da quest'altra zona sempre la zona dell'altro scatter 4 zap e due terremoto e fa fuori tutta la zona dopodiché acceleriamo un attimino parte con tutti i super giganti tutte le super streghe dietro a coprire interamente il lato sorvegliante nel mezzo insieme ai reali dirigibile che va verso il municipio senza alcun problema più di tanto e niente piallata tranquilla easy le streghe ormai come potete sapere e avete visto da tante live e tanti video sono entrate preimpotentemente nel meta del gioco fanno il loro discreto danno con tutta la orda di scheletrini che fanno nel momento in cui riesci a governare bene gli scagliapietre e tutte le zone tutte le difese danno splash per cui attacco bello per quanto riguarda i ragazzi bruno ha utilizzato anche lui la stessa tecnica ve la faccio rivedere volentieri ha cambiato leggermente la configurazione delle pozioni vedete che invece lui ha utilizzato qualche zappe in qualche terremoto in meno obiettivo questa volta anche qua leggerissimamente diverso perché uno scagliapietre alla fine lo lascia in piedi si occupa tutto del lato dietro diciamo così attacca da ore 9 ore 12 si lascia sul davanti questo scagliapietre che andrà a gestire con abilità pozioni cercando di far sopravvivere al meglio tutte le sue truppe e poi per essere più tranquillo sul dietro ha fatto sparire questa è stata la sua scelta in pratica e che ha ancora l'abilità del sorvegnante da utilizzare che ha aspettato proprio il momento più opportuno tanto lo sgretola muri ha fatto breccia ed è arrivato fino al municipio le truppe avanzano in tutte le direzioni senza grossi problemi la campionessa fa il suo andando ad aiutare gli scheletrini andando a distruggere tutte le difese regina che può tenersi la sua abilità praticamente fino all'ultimo anzi probabilmente non la usa nemmeno e arriva il tris anche per bruno ultimi secondi dell'attacco dove si va a distruggere l'ultimo deposito e vola ok ultimo attacco che vi porto in rassegna quello da opera di carmelo carmelo che ha utilizzato invece una semplice però sicura hybrid ormai tecnica vecchia quasi ormai ma sempre efficace se applicata bene parte dall'angolino ore 6 fa un po di funnel con un paio di ieti e qualche maghetto breccia con qualche super bombarolo va a distruggere la zona dello scatter l'artiglieria aquila e un po di zone un po di robe varie qua gestisce abbondantemente bene gli scheletrini torre bombardiere all'altro super bombarolo va a aprire un'altra zona che non è utile diciamo così per l'attacco vede che la regina ormai è indirizzata in questa zona qua attacca per ultimo l'artiglieria aquila mentre è già partito l'attacco principale diciamo con tutti i minatori e tutti i domatori della hybrid che dopo aver fatto fuori il municipio si dirigono verso lo scaglia pietra verso la zona centrale del villaggio domatori che restano belli compatti vicino ai minatori funnel che non era proprio stretto stretto ma ben amministrato poi senza l'aquila che rompesse le scatole è stato facile poi andare ad abbattere tutte le restanti difese direi buona direi una bella iniziativa da parte dei componenti del clan e dei devastatori con questo evento ragazzi contro ragazze che altri hanno portato in precedenza in altri clan e anche in eventi di community però è sempre una cosa simpatica diciamo alla fine hanno vinto i ragazzi fatemi sapere se siete contenti che abbiano vinto i ragazzi o se prevedevate che vincevano le ragazze meritavano di più dite la vostra nei commenti come al solito iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti lasciate un bel like guardate in descrizione che ci sono tutti i nostri social e mi raccomando ci vediamo al prossimo video alla prossima live bye bye ciao ciao ciao